168 famiglie numerose residenti a Bassano, metà italiane e metà straniere, con più di 4 figli entro i 26 anni. 1.200 quelle con più di 3 figli, di queste 60 con bimbi in età scolare dall'asilo alle medie. Il comune di Bassano sta mettendo in atto una serie di iniziative mirate, da un lato a venire incontro alle necessità di questi nuclei numerosi, dall'altro a incentivare le coppie ad avere figli, considerati importantissima risorsa per il futuro della società. Anche Bassano di fatti soffre il calo demografico, il livello della natalità negli ultimi anni è pari a zero. A questo si contrappone l'invecchiamento della popolazione e diventano indispensabili determinati incentivi. È il caso della mensa e del trasporto scolastico gratuiti per famiglie con 3 figli alla scuola dell'obbligo. Ed è il caso della tessera culturale che permetta anche a chi ha più di 4 figli di andare al cinema, visitare un museo o recarsi a una mostra. In un dialogo che abbiamo aperto con le famiglie numerose a partire già dall'autunno scorso, insomma, quello che ci siamo accorti, quello che ci hanno detto le famiglie è che molto spesso la vita culturale delle famiglie sparisce. Perché quando si hanno tanti figli bisogna pagare biglietti oltre a tasse scolastiche e quant'altro, insomma, la prima cosa che si decide di tagliare è appunto la cultura. In questi giorni la card è in distribuzione, pagheranno gli ingressi solo i genitori.